A Milano! Ah buongiorno, è il tempo di arrivare! Ma ci vado a Milano? Come ci vai a Milano? Col motorino, va! C'è una sola pizza con l'anima napoletana che è già a casa tua. È Boitoni Bella Napoli. Ingredienti semplici e naturali. Le stesse cose buone che useresti tu. Che bella pizza! Noi l'abbiamo ordinata. Chissà quando arriva. Volete favorire una Bella Napoli? Arriviamo! Boitoni, l'abitudine di cambiare. Il resto è il tempo di cambiare. Il resto è il tempo di cambiare. Il resto è il tempo di cambiare. Quando li apri, tutti gli organi all'interno sono numerati. Il secondo chirurgo dice Ma dovresti vedere gli elettricisti? All'interno tutto è codificato a colori. È impossibile sbagliarsi. Il terzo chirurgo ribatte Ma i migliori rimangono i bibliotecari. Tutti gli organi classificati in ordine alfabetico. Tocca al quarto, il chirurgo più anziano ed esperto che dice Ragazzi, date retta a me che ho esperienza. I più facili da operare sono i politici. Non hanno cuore, non hanno cervello, non hanno spina dorsale Ma soprattutto la faccia e il culo sono intercambiabili. E' un'altra cosa che è cambiabile. Ho fatto la lavatrice stamani, è rientro un lago. Ha mai usato Calfort? No, usa un anticalcare economico. Ma chi le ha raccomandato? Nessuno. Da oggi c'è nuovo Calfort pastiglie, doppia azione per una migliore protezione della tua lavatrice. L'unico raccomandante. Vediamo che tutto vada come dovrebbe. Bene ragazzi, fatemi spazio. Ho ricevuto l'ordine di sparare sull'Air Force One. Sono in posizione. Missili armati. Eh, questo è. Bene. Versaglio identificato. Ce l'ho sottotituto. Questo programma è stato offerto da TV Sorrisi e Canzoni. Lo spettacolo nelle tue mani.